Benvenuti a tutti su questa review. Oggi parliamo di uno strumento di lavoro eccezionale, le cuffie della Ollo Audio. In particolare tra le mie mani ho questa cuffia che è la S4X di Ollo Audio. È l'ultimissimo modello che ha tirato fuori questa casa slovena. Ci troviamo nello studio di registrazione Pure Sound di Giuseppe Denaro dove per giorni abbiamo testato queste cuffie. Non per screditare le altre ditte ma vi posso assicurare che non c'è pan per focaccia per nessuno. Bene Ollo Audio è stata in grado di tirare fuori uno strumento di precisione incredibile. Io ritengo queste cuffie o meglio le definisco come delle cuffie crudeli. Perché? Perché la resa sonora è estremamente piatta. A maggior ragione Ollo Audio ci tiene a far sapere qual è la risposta in frequenza, ovvero fa arrivare a casa insieme alla dotazione che abbiamo di queste cuffie un grafico. Queste cuffie seguono un protocollo preciso che è l'IEC 60318 sbarra 1. Ma che cos'è questo protocollo? È un severissimo controllo che viene effettuato proprio sui driver di questa cuffia. Abbiamo notato che è un supporto alternativo allo studio di registrazione, ovvero quando non si ha la possibilità di avere un intero studio di registrazione appresso oppure dei monitor professionali dove ascoltare le tracce registrate e allora qui in aiuto può venirci la nostra cuffia della Ollo Audio. Ma come si indossano queste cuffie? Devo dire che io le ho tenute addosso per ore e ore e non ho mai avuto la sensazione di stancarmi. I pad sono meravigliosamente rivestiti da un velluto e il materiale con cui è fatta l'imbottitura è una eccellente memory foam. L'archetto ha una giusta pressione sulla testa e non risulta mai affaticante. Esteticamente queste cuffie si presentano come se fossero un gioiello di rara bellezza. Bene sì, perché queste cuffie sono interamente costruite a mano e infatti i tempi di consegna si fanno un po' lunghetti. Cosa troviamo all'interno della scatola che contiene queste cuffie? Devo dire che Ollo Audio è stata molto risicata nella componentistica che accompagna la cuffia, ovvero l'essenziale. Troviamo all'interno un cavetto di buona fattura con una sdoppiatura per l'ingresso dei padiglioni cui non fa differenza destra e sinistra e alla fine del terminale di questo cavetto troviamo un semplicissimo jack con adattatore da 3,5 a 6,5. E infine andiamo sui dettagli tecnici. Queste cuffie hanno un driver da 50 mm, è una risposta in frequenza da 20 Hz a 22 kHz con un trasduttore in neodimio. Tra l'altro la particolarità di Ollo Audio è quella di montare il padiglione destro con il suo trasduttore e il padiglione sinistro con il suo trasduttore perfettamente identici dopo alcuni test di precisione. La pressione sonora che tirano fuori queste cuffie è di ben 108 dB e possiamo farle funzionare con qualsiasi dispositivo a nostra disposizione perché sì sono soltanto 32 ohm di impedenza. La cosa importante di Ollo Audio è che ci dà la possibilità di provare queste cuffie per 30 giorni e poi se non siamo contenti possiamo restituirle. Ma qualora volessimo tenerle e allora ci dà una garanzia di 5 anni e soprattutto ci dà la possibilità di avere tutti i pezzi di ricambio qualora qualcuno andasse a male. Beh arriviamo alle conclusioni generali. Vale la pena spendere 400 euro per una cuffia come questa? Alle mie spalle ce ne sono alcune che sono quasi costate quanto questa e vi posso assicurare che sì ne vale assolutamente la pena. Devo essere sincero all'inizio sono stato un po' sconfortato dal suono di questo strumento ebbene poi invece sono arrivato a una soluzione. Avere il suono piaccione è bello e gradevole e soprattutto ci mette a nostro agio e ci fa rilassare. Però per quanto riguarda queste cuffie mi dispiace dirlo ma deve essere così. Perché in uno studio di registrazione o in un ambiente fuori dallo studio di registrazione questo è un ottimo compagno di viaggio. Ci dà la possibilità di avere una referenza unica e di lavorare in tutta tranquillità senza poi avere il problema di ascoltare il nostro mixing su qualche altro impianto e esserci resi conto di aver fatto qualche errore.